Good morning Milano, good morning a tutti e a tutti, good morning a tutti quelli che ci stanno ascoltando, good morning a quelli che ci ascolteranno più tardi, good morning a quelli che ci riascoltano in podcast, questo è Good Morning Milano e siamo qui su Crystal Radio in diretta tutte le mattine, ben ritrovati, ben ritrovati, bentornati qua con noi come sempre per passare la mattinata insieme, ma poi tutta la giornata se volete, perché Crystal Radio lo sapete inizia con noi alla mattina alle 7, noi arriviamo, accendiamo la luce, apriamo le scale, diamo una spazzata fuori al cortile e poi dopo si inizia, non è vero, non faccio niente di tutto questo, entro un minuto e mezzo prima della diretta di corsa, trafilato col fiatone e senza aver neanche butto un goccio d'acqua, non so come arriverò alla prossima canzone, ma questo lo facciamo per cercare di darvi la sveglia, per cercare di darvi i tempi della mattina, per ricordarvi quello che succede in città, per leggere i giornali insieme a voi, per essere appunto i vostri accompagnatori durante la mattinata, che, perché quindi i protagonisti siete voi, come al 3317853555, sì potete essere i veri protagonisti della nostra trasmissione che inizia in questo istante, oggi abbiamo detto il 12 di giugno, è un mercoledì e io sono un po' stanchino perché ieri sera sono stato al concerto di Vasco e devo dire che spettacolo, cioè lo sapevo, non c'era neanche bisogno di andare per sapere che sarebbe stato qualcosa di pazzesco, beh per fortuna ci sono andato e per fortuna è stato tutto confermato, nonostante la pioggia, un grande Vasco che insomma ha fatto cantare tutta San Siro. Francesco, Francesco Renga con Angelo alle 7 e 12 minuti di oggi, mercoledì 12 giugno, perché appunto, vedete, hai parlato di Vasco, un concetto tutto per mi mandi in onda a Renga, allora si sceglie, No, è perché è il suo compleanno oggi, ebbene sì, oggi è il compleanno di Francesco Renga, nato il 12 giugno del 1968, dove? A Udine, così dicevo, pensavo fosse di Brescia, io non so perché avevo questa idea, però no, altrimenti è nato lì e poi ha vissuto tutta la vita dall'altra parte. Comunque questo è appunto, oggi è il compleanno appunto di Francesco Renga, che si è appunto nascendo a Udine ma poi ovviamente cresce tutta la sua vita a Brescia e quindi volevamo appunto iniziare con una sua canzone. Allora, giornata oggi un po' così, nel senso il meteo, ovviamente devo iniziare con il meteo, perché? Perché in questo momento fuori finalmente c'è bel tempo, finalmente non ci sono cose strane nel cielo, almeno apparentemente perché tutta la mattinata dovrebbe essere tranquilla. Lo dice anche il Corriere della Sera, perché ieri c'è stato l'allertamento che è scaduta questa mattina, un'ora fa praticamente, questa mattina alle 6, sì, l'allertamento, ieri dalle 18 fino alle 6 di questa mattina e infatti ieri sera avete visto quant'acqua è venuta giù. Oggi si trascorrerà invece una mattinata asciutta, così dice il Corriere della Sera, nel pomeriggio e poi in serata invece tornerà a piovere, a tratti anche molto forti, temperature masse intorno ai 22 gradi, la più basse intorno ai 15 gradi. effettivamente andando a vedere vari siti di meteorologia, che ho visto adesso, tra parentesi è una cosa che mi fa morire da ridere, perché c'è, in questo sito ci sono poi le centraline che danno il meteo in tempo reale, poi c'è la rilevazione radar, ok, e poi c'è previsioni di ogni 10 minuti, tra parentesi con AI. Questo vuol dire ovvio che le previsioni sono fatte, cioè le previsioni del meteo sono sempre state fatte con AI, cioè nel senso è un algoritmo, è un cosa matematico, come si dice lì, cioè è matematica, quindi nel senso c'è un algoritmo, c'è anche predizione, c'è anche in base ai dati messi prima, poi l'algoritmo e l'intelligenza artificiale, cioè nel senso è una previsione, nel senso comunque ormai bisogna metterla per tutto questo AI, se no non si fa tendenza e non si va in Google. Comunque, cosa succede? Stamattina appunto nubi sparse, in realtà da qualche gocciolina ancora fino alle 8, ma non mi sembra che ci sia niente di che, il problema riasce poi questa sera alle 19, quindi è buono anche per la seconda data del concerto di Vasco, proprio intorno alle 19 dovrebbe iniziare a piovere, oltretutto intorno alle 22, tra le 22 e le 24, tra le 22 e mezzanotte, abbondanti piogge si aspettano, quindi un'altra di quelle serate che non saranno facili da gestire, complimenti invece ieri a chi ha gestito invece il palco di San Siro e tutta San Siro, perché davvero nonostante l'acqua, e ne è venuta giù davvero davvero tanta, che noi abbiamo preso tutta quanta, nel breve tratto che divide la sede della radio, la sede dei nostri studi, da cui siamo partiti per andare allo stadio, abbiamo preso tutta l'acqua possibile e immaginabile, ok? Poi ha smesso di piovere a metà concerto, per poi ricominciare a piovere quando siamo usciti dallo stadio, quindi grazie mille al meteo, sta di fatto che in questa sera il rischio è quello, io pensavo che se piovesse troppo non si facesse il concerto, invece davvero è super organizzato, con dei gazebi, super coperto il palco, tutto messo a norma di sicurezza a grandissimi livelli, e quindi il concerto si fa anche con piogge abbondanti, come ad esempio quella di ieri sera, quindi complimenti ancora a Vasco e a tutta la sua immensa e bravissima squadra. Il traffico invece oggi, come sarà in città, com'è in questo istante? Tua, sinceramente, Annalisa, 7.20, mercoledì 12 giugno, la grande musica di Crystal Radio qui per voi in diretta fino alle 9, e poi c'è anche dopo, lo sapete, che dopo di noi, Ambrogio Cudi consenti questa, che lì sì che la musica vola, vola alta. Grazie dei vostri whatsapp al 331-78-535-555. Allora, devo leggere quello di Alberto, che mi ha scritto poco fa, appunto, buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori di Crystal Radio. In attesa del prossimo lubifragio, eh sì, come ha sentito Alberto appunto questa sera torna, una nuova giornata di impegni ci attende in bocca al lupo agli studenti che oggi iniziano un esame di terza media di maturità la prossima settimana. Ebbene sì, infatti oggi quasi tutti gli studenti, in realtà è un calendario, adesso mi leggo da Repubblica, viene una notizia, è un calendario un po' frammentato quello degli esami di terza media, perché è vero, tutti quanti si pensa sempre agli esami di maturità, che iniziano settimana prossima, mercoledì 19, attenzione, anzi, rimanete collegati con noi perché avremo una grande sorpresa per il 19 di giugno, per il primo giorno della maturità. Poi ve lo racconto, dopo, ma proprio ve lo dico, segnatevi la data, seguiteci in diretta, mercoledì 19 giugno, tutta la mattina, seguiteci in diretta, perché è davvero grande novità e una sorpresona per tutti quanti. Comunque, scuola, leggo da Repubblica Milano, esame di terza media in ordine sparso per 96.000 ragazzi lombardi. Ogni istituto decide il calendario. Le elezioni hanno fatto slittare la partenza, prove scritte italiano, matematica e lingua straniera, più l'orale. Le elezioni quindi hanno obbligato alcuni istituti a far slittare di qualche giorno l'inizio delle prove, ma nell'arco della settimana in tutte le scuole lombardi inizieranno gli esami di terza media. A tornare sui banchi per affrontare tre prove scritte, italiano, matematica e lingua straniere, e poi l'orale, saranno oltre 96.000 studenti che si troveranno davanti a una commissione presiduta dal preside della scuola, composta da tutti gli insegnanti del consiglio classe. Viene fatta così la composizione della maturità, non solo gli esterni, ci sono solo gli interni nelle mie medie. Però è interessante e importante pensare che è uno dei primi esami grossi che passiamo nella nostra vita. A decidere il calendario degli esami quindi è il singolo istituto a Milano. Tra i primi a partire c'è il Perasso, in cui lo scritto italiano si svolgerà appunto, si è già svolto, anzi credo ieri mattina se non sbaglio, si appunto già ieri mattina si è svolto, quindi hanno già iniziato proprio, non essendo seggio elettorale, sono riusciti a iniziare subito. Ci saranno invece poi altri istituti che iniziano invece nella mattinata. Come funziona l'esame? Ad esempio quella della preside, la preside Antonella Caleffi del Perasso, ci dice come funzionerà. C'è una situazione più confortevole, possiamo ottimizzare i tempi, appunto grazie al fatto che possiamo far slittare l'inizio degli esami e tutto. Loro hanno sette classi terze, quindi è importante avere margine per poter concedere a ogni studente uno spazio d'ascolto adeguato subito all'orale, così gli iscritti si svolgeranno appunto dall'altro ieri, anzi dall'altro ieri, lunedì fino a mercoledì e poi domani all'Istituto Perasso di Via Adriano si partirà già con i colloqui, con gli orali appunto, che riguarderanno ogni giorno almeno 12 allievi tra mattina e pomeriggio. Io ad esempio ieri sentivo, invece ho parlato con una professoressa del Rosa Luxemburg, Galileo Galilei, che è un complesso veramente immenso con due sedi, una a quartiere Olmi, una in Via Paravia, in quartiere San Siro, e loro ad esempio con gli orali che partiranno più avanti, verso la fine della prossima settimana ancora, anzi quella fra due settimane praticamente, loro avranno nel solo corso di audiovisivo, che sono appunto i ragazzi che ogni tanto vengono anche qua a fare il PCTO da noi a Good Morning Milano, in quel corso ogni giorno avranno cinque studenti che affronteranno l'orale per quanto riguarda appunto la maturità. Maturità che, come vi dicevo, incomincia invece il 19 di giugno, cioè settimana prossima, praticamente ci siamo, fra una settimana esatta e mercoledì prossimo, quindi sette giorni, in questo momento c'è qualcuno che è sette giorni, ricordate la cassetta, la De Ring che ti diceva così, non mi ricordo, era quella che diceva sette giorni, o era Scrim, che fosse De Ring o qualcosa del genere, o Scrim, non mi ricordo che ti suonava il telefono, ricordatemi voi se voi guardate, 331-78-53-555, cos'era quel film che ti aveva vissuto e ti diceva sette giorni? Oppure sto mettendo insieme quattro, cinque film in uno e ho inventato una nuova trama di un film? No, ma c'era, forse era Scrim, sì, forse era Scrim, De Ring, non mi ricordo, poi comunque, Scrim è la versione seria di Scary Movie, giusto? Non mi ricordo mai, perché poi anche quello, la maschera, sì, Scrim, dai, secondo me era sette giorni, era quello, poi c'era quella della videocassetta, cos'era invece, quelli che la mettevi dentro, ma non so, a qual era De Ring, credo, quindi datemi, io non li seguo questi film horror, thriller, no, questi, quindi datemi, De Ring mi viene suggerito, mi viene suggerito che De Ring, quello sette giorni è De Ring, siamo sicuri? Ma io non sono così sicuro, ditemi voi se è quello lì, 331-78-53-555, va bene? Dai, adesso andiamo con un po' di musica invece, Angela Mango, con però il pezzo, diciamo che l'ha fatta più conoscere, prima di Sanremo, quindi molto prima di Sanremo, sto parlando di che, te lo dico a fa, Angela Mango, sette venticinque, anzi ventisei minuti in questo istante, qui su Cristal Radio, Good Morning Milano. Ace of Base, all that she wants, sette e trentaquattro minuti, Cristal Radio, Good Morning Milano, ben ritrovati, ben ritrovate qui con noi, vi ricordo il nostro numero di Whatsapp, 331-78-53-555, come state? Ieri sera andate anche voi al concerto di Vasco Rossi? Com'è andata? È andata bene, su Repubblica, su Repubblica c'è un pezzo di Vasco di ieri sera, vado a leggermi perché davvero, mi fa capire come, pezzo, mi spiace dirlo, completamente inutili, inutile proprio, Vasco Rossi, sotto il diluvio, terzo concerto a San Siro, la pioggia non ferma lo show al Meazza, il cantante esce sul palco e attacca con Blasco Rossi, che non si chiama la combricola del Vasco, Blasco quella canzone, comunque piova di rotto su Milano, ma a San Siro il popolo di Vasco aspetta il paziente che esca sul palco per dare inizio al concerto, il terzo show al Meazza in questo nuovo tour, ne mancano ancora quattro, per qualche ora, ho aggiunto io, per qualche ora le persone nella zona Prato si sono arrangiate come hanno potuto, con keyway, ombrelli e teloni in plastica da condividere con gli altri fan, poi sotto una pioggia che pare non voler dare tregua, Vasco esce con la band e attacca a suonare, e lo show inizia con il pezzo Blasco Rossi, basta, finito qua l'articolo, Tamparendo si credo di aver appena fatto una cosa che non si deve facciare, c'è una legge sul copyright, per cui forse non dovrei leggere tutto l'articolo, però questo era impossibile, erano otto righe di articolo, quindi come fai? Blasco Rossi, comunque sì, il pezzo è appunto la combricola del Blasco, in realtà si chiama Blasco Rossi, il titolo originale è Blasco Rossi, poi tutti la chiamiamo la combricola del Blasco, comunque, e questo è l'articolo, vai avanti a scriverlo, non c'è niente a dire, nel senso, caro Corriere della Sera, no Repubblica, che cavolo era? Corriere della Sera? La Repubblica, Repubblica, cavolo Repubblica, no, anzi, caro Repubblica, scriviamolo qualcosa, due righe in più magari, raccontaci poi come va il concerto, aspettiamo magari, l'avete pubblicato alle 21.30, aspettiamo magari alle 23 qualcosa, e pubblichiamo anche all'uscita, il popolo del Blasco, torna a casa, sereno e felice, dopo una serata indimenticabile, con le note di Albacchiara, cioè non so, nel senso, una cosa del genere, mi viene da dire, tra parentesi, posso dire che scrivere un articolo, su come finisce un concerto di Vasco Rossi, è semplicissimo, perché finisce sempre nella stessa identica maniera, cioè Albacchiara è l'ultima canzone con cui chiude, devo dire che, non era il primo concerto che vedevo, ieri sera, ha dato tutto di più sul finale, nel senso che, davvero a un certo punto, c'erano, cioè sul finale, sappiamo, Albacchiara finisce con questa chitarra, che inonda tutto lo stadio, e poi c'è il famoso Milano finale, fatto dalla corista, questa, ieri sera, e, e, è scoppiato tutti i fuochi artificio, c'è una roba che sembrava, l'apertura delle Olimpiadi praticamente, no, anzi, hanno fatto le prove per, per Cortina 2026, che faranno l'apertura a San Siro, devo dire, quella, questa volta, è veramente stato un finale, rocambolesco, pazzesco, che, ti fa uscire con un'energia, che solo, devo dire, Vasco Rossi, secondo me, riesce a darvi, adesso, tanti altri sono bravi a fare i concerti, ho visto tantissimi concerti di vita mia, anche di band, e anche i concerti più belli di quei di Vasco, io ricorderò sempre un concerto di Ben Harper, al Forum da Sago, dove a un certo punto, fa spegnere l'impianto, Ben Harper fa spegnere tutto l'impianto acustico, l'impianto audio, e canta, senza microfono, a cappella, in mezzo, al Forum da Sago, una canzone delle sue, e fa venire la pelle d'oca, praticamente a chiunque, in un momento super, super emozionante, però, io voglio dire, come gestisce Vasco, i concerti, come si dice, come è Vasco a San Siro, ce n'è poco, ce n'è poco, forse solo lui è capace di fare quella roba lì, è proprio il suo, è proprio il suo habitat, è il suo modo di vivere, è il suo modo di esprimersi, di lavorare, cioè proprio lui è quella roba lì, c'è poco da fare, e ieri sera è andata ancora l'ennesima prova, questa sera ancora replica, quindi questa sera quarto concerto, e poi settimana prossima, no dal 15, scusate il 15 c'è poi l'altro concerto, insomma si va avanti così, e sono i concerti più attesi, diciamo, della stagione concertistica, a San Siro. La rappresentante di Lista, ciao ciao, e la rappresentante di Lista ci fa ricordare, che arriviamo da un weekend di elezioni, da un weekend in cui siamo andati, in teoria dovevamo andare a votare, poi metà di voi non è andato, e questa cosa non ve la perdono, e ve lo dico, ah questa cosa non ve la perdono, che metà di voi non è andata a votare, anzi scusate, che metà di noi non è andata a votare, questa non ce la perdono, comunque Repubblica Milano, l'analisi del voto a Milano, il comune più saldo, e in regione si apre la resa dei conti, Palazzo Marino resta non contendibile, il crollo della Lega, ormai settimo partito in città, riapre invece i giochi in regione, Fratelli d'Italia potrebbe chiedere il posto di Bertolaso, la punizione che le urne a Milano e in Lombardia, consegnano a Matteo Salvini, umiliato al 6% e al settimo posto della sua città, si potrebbe raccontare in un dettaglio, che ha anche la sua presentezza, di simbolo dice, dopo 20 anni la Lega perde il ferro di Pontida, e adesso per i ritrovi sul Pratone, se la vedrà con il nuovo sindaco Davide Cantù, si chiama Cantù, uno di Pontida, cioè nel senso, Cantù va a fare sindaco a Cantù, però non posso dire, banale come cosa, comunque, il sindaco Davide Cantù, della lista civica Viviamo insieme a Pontida, appunto sarà il nuovo sindaco di Pontida, e quindi adesso quando dovranno andare a chiedere, possiamo chiedere l'utilizzo del suolo pubblico, del Pratone, ma vediamo allora, chi siete voi, no così starà, quanti siete, un fiorino, comunque, i numeri del due giorni elettorali, tra europee e comunali, vedono protagonista, a suo malgrado Salvini, perché la battuta d'arresta della Lega, così dice Repubblica Milano, non recupera niente sulle politiche, ma anzi, vede i fratelli coltelli di Fratelli d'Italia, avanzare rispetto al 2022, sia in regione, che nella Milano Roccaforte Rossa del Nord, e quindi problemi nel centro-destra, e a Palazzo Lombardia, quindi, iniziano un po' le sfide, potrebbe esserci una richiesta di cambio, diciamo, dell'assessorato di Bertolaso, soprattutto da parte di Fratelli d'Italia. A Milano poi esce tutto un quadro molto interessante, che, ad esempio, Sala cosa dice? Europeo e Lombardia, Sala dice, argine alle destre, battuti i miei oppositori, così dice, no Sala, la roggiani, la segretaria roggiani, la segretaria provinciale, dice, un successo per il PD, adesso allarghiamo la nostra base, confermiamo il ruolo di Perno, nel costruire l'alternativa alla destra, ripartiremo con la presenza sul territorio. Si capisce che lo sto leggendo con un po' di sarcasmo, questa roba, però, perché posso dire una cosa, roggiani, Sala, cari amici della sinistra, non avete vinto niente, non avete fatto nessun argine, la metà di noi non è andata a votare, la metà di noi, scusate il termine, vi ha schifato, quindi per favore, basta, basta salire e dire, siamo i più fighi perché a Milano ce ne abbiamo tenuto, già che abbiamo tenuto non ne abbiamo vinto, uno, due, siete comuni, non avete vinto le elezioni perché quegli altri hanno preso più voti di voi, ok, e tra parentesi, non esultate neanche quegli altri, parlo anche a voi quegli altri, ok, fateli di Italia, Forza Italia che adesso è tutta contenta perché ha battuto la Lega, no, vi hanno schifato anche a voi, la metà di noi non ha voluto decidere, non ha potuto decidere, chi votare, non è voluta, non ha sentito, pensate peggio ancora forse, molti di quelli che non sono andati a votare, non hanno neanche sentito il dovere o la motivazione, noi diciamo ma perché devo andare a votare, vado a farmi un giro che faccio prima, tanto è uguale, quindi la verità è che avete fallito miseramente tutti quanti, dall'una e dall'altra parte, quindi smettiamola di esultare perché qualcuno ha preso il 2% in più di qualcun altro, o di piangere, mi viene a dire anche di piangere invece, cioè calenderenze che non arrivano al 4%, va bene, ma è ovvio, è ovvio perché la gente si è rotta le scatole di un sistema che non funziona, o meglio, attenzione perché io lo dico sempre, la politica è importantissima, la politica è fondamentale, la politica si fa ogni giorno, la politica la faccio tutti i giorni io parlando a questo microfono, perché in base a quello che vi leggo, in base a come interpretiamo le notizie, anche insieme facciamo politica, questa è fare politica, non è andare a votare un partito o l'altro, fare politica è vivere il momento, è vivere la contemporaneità, ma con un occhio al futuro, con un occhio al progresso da una parte, alle tradizioni dall'altra, al volere che le aziende facciano delle cose, o al volere che i cittadini possano fare delle cose, quella è la politica, poi c'è la destra, la sinistra, che non è vero che non esistono, esisteranno sempre, perché da una parte bisogna decidere da che parte andare, quindi benvenga che invece noi ci si poi riconosca, ma quanto è difficile riconoscersi in qualcuno in questo momento, e allora per favore, argine alle destre, battuti i miei oppositori, no caro sindaco Sala, ti hanno battuto a te tutti, avete rovinato la politica, e ora cercate di far finta che questa cosa non succeda, ma se è già la seconda volta, poi Sala nel tuo caso è già la seconda volta caro sindaco, perché anche alle scorse elezioni, praticamente metà dei milanesi non hanno votato per il sindaco, che è ancora più disarmante se ci pensate, cioè, ok, è veramente qualcosa di disgustoso vedere come si sale sul carro dei vincitori, o si cerca una vittoria dove nessuno ha vinto, dove tutti hanno perso, in primis i cittadini, l'Europa ha perso, perché sarà sempre meno utile, e sarà sempre meno forte un'Europa che così non ha l'idea fondante, non poggia le radici nell'idea fondante dell'Unione Europea e dell'Europa in generale, quindi davvero, io vorrei smettere di leggere certe notizie, e di leggere, non c'è nessuno, non c'è nessuno di nessun partito che ha detto, ragazzi, ma qualcosa abbiamo combinato di malvagio, o di sbagliato, diciamo, o di male, perché se più della metà dei nostri elettori non è andata a votare, forse qualche domanda dovremmo farcela, vi assicuro che c'è forse qualche domanda, forse appunto dovreste farvela, com'è che più della metà di noi non è andata a votare? Tutto questo è quello che ci rimane dell'Europa, Nemo, che vince l'Eurovision Song Contest del 2024 per la Svizzera, ecco, capite quanto, cioè forse ha votato più gente per l'Eurovision, mi sa che per le elezioni europee, pensate voi come siamo messi, no, non è vero, assolutamente, non credo che sia così il dato assoluto degli elettori dell'Eurovision Song Contest, però davvero, abbiamo parlato più di Eurovision che di elezioni, pensate qua, ma forse anche perché la campagna elettorale ha fatto schifo, ne vogliamo parlare, perché c'erano dei cartelloni, io non potevo, io sono felice che ho fatto, io non ho potuto parlarne per un mese, perché c'era la par condicio, quindi se dicevo una cosa contro uno, dovevo per forza trovare qualcosa da dire contro un altro, è vero che è molto semplice trovare qualcosa da dire contro, è difficile trovare qualcosa a favore, ma quando in giro per Milano trovi dei cartelloni elettorali di un esponente, non mi ricordo neanche se di dove fosse, comunque beh, posso dirlo, un sessantenne sovrappeso, posso dirlo, perché mi sembravo io, quindi potremmo essere io, che bullizzava, e se la prendeva con una ragazzina di vent'anni, che è Greta Thunberg, con una scritta, Greta Thunberg back to school, cioè capito, come per dire, senti ciccia, dai spostati, fai lavorare i grandi, tu spostati, ecco capite che se quello è il tenore della campagna elettorale, e vi assicuro che da nessuna, non è che è andata ben oltre, cioè perché anche dall'altra, cioè tutte e due le parti, continuano a raccontare, una storia trita e ritrita, che sta stufando la gente, ma in tutto per tutto, da una parte con l'estrema nazionalizzazione, l'estrema voglia di essere patriottista, il patriottismo senza motivo, mi verrebbe da dire, ok, quindi il tricolore, il prima gli italiani, tutte quelle boiate, assurde da quella parte lì, dall'altra un'estrema volontà, un'inclusione che viene raccontata, ma poi non viene fatta, la voglia di usare asterischi, cose che non servono assolutamente a niente, e che poi comunque non fanno passare il messaggio, perché poi in tutta questa voglia di inclusività, c'è gente che continua a pigliarsi le mazzate, o a essere rilasciato, e ci sono genitori, e via meno un paese, ci sono dei genitori che hanno cacciato di casa, i propri figli perché omosessuali, ok, quindi se siamo a questi livelli, dove succedono queste cose, dopo anni di sensibilizzazione e tutto, in un mese come questo, che è importantissimo, il mese del Pride, che è un mese fondamentale, per i diritti dei cittadini, per i diritti civili di tutti, per i diritti di tutti i cittadini, che non ne devono esistere, i famosi cittadini serie A o serie B, tutti devono avere i propri diritti, bene, se succedono ancora cose del genere, e la politica non riesce a fare assolutamente niente, perché diciamocelo, la politica è indietro anni luce, anni luce, rispetto a quello che la nazione potrebbe fare, è vero, ci sono dei temi divisivi, sì, ci sono i temi divisivi, tutto il discorso, ad esempio, sull'aborto, è un discorso molto complicato e divisivo, bene, ma va affrontato, non io sì, io no, così non si affronta, il problema del matrimonio igualitario, è un problema serio, ma non si affronta dicendo io sì, io no, io vi ricordo che siamo nello stesso paese, che è riuscito a fare la legge dell'aborto, e la legge del divorzio, quando al governo c'era la democrazia cristiana, quindi siamo riusciti a fare qualcosa in questo paese, perché adesso non si riesce più, perché adesso dobbiamo continuamente sempre andare a scontrarci su posizioni ideologiche, su cui partiamo, teniamo e vogliamo, no, io tengo la barra dritta, e mi teniamo così dritta che andiamo sempre a schiantarci, però, è questo il problema, cerchiamo finalmente, ognuno partendo dai suoi posizioni, perché attenzione, ripeto ancora prima, destra, sinistra, devono esistere, devono continuare a esistere, se no, non si capisce da che parte si va, ognuno poi sta sulla sua parte, e poi ci si ritrova a metà strada, e si dice, bene, allora dai, io andrei di qua, tu andresti di là, ma guarda, forse qui in mezzo facciamo prima, ok, si arriva con lo scontro, si arriva con la dialettica molto accesa, ma si deve arrivare a una roba del genere, se no, non si va da nessuna parte, è un paese fermo, è un paese allo stallo, ma non è un discorso solo italiano, è proprio un discorso globale, l'Europa è uguale, vincono le destre dove c'è il governo alle sinistre, vincono le sinistre dove c'è il governo alle destre, quindi insomma, non è che sia tutto, non siamo solo noi, ma il Comune è mezzo gaudio, però non siamo solo noi, però cerchiamo davvero di capire quanto è importante, la politica è quanto è importante andare a votare. E non la gay, e non la gay 8.06, mercoledì 12 giugno, Crystal Radio, good morning Milano, ben ritrovati e ritrovati a tutti, siamo qua con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto in studio, perché oggi parliamo di stadio, eh ancora parlare di San Siro, no non San Siro, San Donato, sempre santi sono, San Donato, Aga San Francesco, sembra che ormai se non hai santi non puoi fare uno stadio, perché veramente di santi in paradiso forse te ne servono, anche per le maledizioni che dimandano a volte i cittadini. Buongiorno a Fabio Songa e Marco Menichetti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora siamo qui con Fabio Songa appunto di Chiaravalle e con Marco Menichetti, uno dei referenti del comitato No Stadio a San Donato, benvenuti, grazie, come si sta da quelle parti in questi giorni? Come va? Bene. Ora bene. Si starebbe sempre bene se non si leggessero certe cose sui giornali, nemmeno a dire, nel vostro caso. Allora, iniziamo, perché vi ho chiamato? perché è di qualche settimana fa la notizia che voi avevate proposto un referendum al comune di San Donato, no? E il comune di San Donato è felicissimo di questa proposta, immagino, giusto Marco? Allora, innanzitutto l'avevamo proposto noi, ma assieme ai cittadini che dovevano firmare formalmente questa richiesta, anche i cittadini che non avevano ancora deciso se sono per il sì o per il no. Giusto. Per cui questo referendum serviva, referendum consultivo, proprio per raccogliere l'opinione di una città che ad oggi non è mai stata interpellata e sentita su questo tema. E ce l'hanno bocciato, quindi l'idea è che non fossero così contenti. È bocciato. Come mai si sa la motivazione, c'è già uscita una motivazione, vi hanno spiegato un perché? Sì, allora, sono stati nominati tre membri del collegio che doveva decidere, nominati dall'amministrazione, diciamo dalla maggioranza, sostanzialmente ci hanno detto... Quindi erano tre di maggioranza? Allora, no, c'è sanitario comunale, c'è ci sono delle indicazioni, però le scelte, ad esempio quale era l'avvocato da scegliere, da mettere nel collegio, comunque è passato per il consiglio comunale, quindi da parte della maggioranza. Ma al di là di questo, la motivazione particolarmente strana è che, pur essendo un referendum consultivo, pur essendo un tema in cui si chiedeva solamente, in generale, se si era d'accordo o meno su questa idea... Potevano ieri fuori che eravate tutti d'accordo, ma eravate gli unici due contrari, magari. Questa è la democrazia. Assolutamente quello che volevamo chiedere, perché veniamo dipinti come pochi faccino rosi che abbiamo chiesto di idee, e invece, volevamo sentire la città, ci è stato detto che questo avrebbe sostanzialmente prefigurato delle scelte private successive, quindi questo non poteva essere consentito. Ma consultivo, poteva anche uscire di no, e potevano fare comunque lo stadio. Poteva uscire, si vogliamo lo stadio, e alla fine vogliono dire no, non ve lo faccio più. Quindi, cioè, nel senso... Però, niente, non mi hanno... In più, ripeto, la materia referendaria che può essere soggetta a consultazione a livello comunale a San Donato Milanese non deve, questo lo dice lo Statuto, andare a ledere, diciamo, diritti urbanistici già definiti. Ma qui siamo sul futuribile. E quindi, ed era per quello, anzi, la cosa migliore da fare, anche perché apriva un dibattito, la possibilità a tutti di informarsi e approfondire la tua macchina. E nei giorni successivi un'altra notizia arriva sui giornali, anzi, proprio qualche ora fa, praticamente, poi dei giorni fa, se non mi collo con il successo, e quando l'ho letto ho pensato subito a te, Fabio, che ha detto, ah, chissà come sarà contento finalmente, perché hanno bonificato la zona, che era tutto uno schifo, e quindi giustamente adesso viene bonificata. Fabio, sei contento che ti bonificano le zone intorno a casa? Ma, posto in questi termini, certo che non sarebbe contento. Io sul giornale ho letto questo, sul giornale. Ebbè, questo, andiamo un po' a monte di tutto questo. Sulla vicenda Stadio San Donato, purtroppo, c'è una cortina di disinformazione micidiale. Anche sulla stessa area, molti cittadini, non solo di Milano, ma anche di San Donato, non sanno esattamente dove sia l'area, e non ne conoscono la potenzialità e il valore, perché stiamo parlando di un polmone verde enorme. lunedì mattina, proprio in seguito alle notizie di stampa, siamo andati a fare un piccolo presidio volante, organizzato la sera prima, con una trentina di persone, col WWF, che ha fatto un esposto. Infatti, devo dire, per ricordare che la Repubblica, infatti, scrive, Stadio Milano San Donato, via alla bonifica dell'area del Parco Sud, diffida il WWF e protesta dei residenti. E c'è anche una foto, dove c'è anche tutto, come ho visto adesso, c'è una bella foto, che in realtà non si capisce bene, perché sembrate quasi che siete lì, si state festeggiando per la bonifica, quindi devo dire che, su quello un po', come sempre, l'internet non aiuta. Sai perché eravamo non troppo affranti in quel momento? Perché la cosiddetta bonifica è cominciata con un'operazione piccola, che è assolutamente necessaria, e che secondo me ogni privato deve fare, cioè ripulire i luoghi in cui ci sono macerie o ci sono rifiuti. Ma questa è così degradata come viene raccontata? No, assolutamente. Allora, guarda, io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a fare un'operazione semplicissima, a entrare su internet e digitare area San Francesco e San Donato. Così vedono di che cosa stiamo parlando. Guarda, ieri, proprio sul... c'è stato un posto di un cittadino di San Donato, tra l'altro acculturato, non come molti altri che vomitano insulti e basta, che ha fatto un ragionamento, secondo lui, su quest'area. Beh, ma quel ragionamento si capiva che era fatto senza la minima conoscenza dell'area stessa. Parla di un triangolino inquinato. Ora, andate su internet, oppure vi invito, io invito tutti, invito il sindaco di Milano, invito il sindaco di San Donato, chiunque, quando parlo con qualcuno, lo invito a venire a casa mia, ci prendiamo un caffè in piazza a Chiaravalle, ci facciamo una passeggiata di 100 metri e arriviamo ai luoghi dove sorgerà lo stadio. Lì c'è una vegetazione importante, c'è una fauna importante, dove, proprio dove sorgerà lo stadio, ho visto una volpe poco tempo fa, c'è un'avifauna notevolissima e c'è soprattutto un patrimonio storico, culturale, da salvaguardare. Già, tutti gli interventi che sono stati fatti con le tangenziali, con l'alta velocità, con la linea ferroviaria, è quello che mi viene sempre un po' da sorridere, sorriso amaro in questo caso, perché stiamo parlando di un'area che non è che proprio sia poco urbanizzata, nel senso che lì, tra svincoli autostradali, tangenziali, alte velocità, stazioni, poi cosa abbiamo? Vari comuni, perché c'è Milano, con il luogo di Chiaravalle, poi San Donato, con le varie frazioni, allargando ancora di più, ci arriviamo comunque in zona Rogoredo, sedi di televisioni internazionali, nel senso, è una zona dove c'è veramente, c'è l'Eni a San Donato, quanti dipendenti avrà l'Eni adesso? Non avranno magari più i 200 milioni di dipendenti che aveva negli anni 80, ma comunque c'è... Stiamo parlando di 10 mila dipendenti come minimo. Ecco, capito, poi facciamo che alcuni fanno smart working, va bene, ma comunque è un paese, è un paese nel paese, nel senso, in tutto questo hanno pensato di trovare un... Ma sì dai, c'è ancora un bel polmone verde 100 metri per 100 metri che ci facciamo un bello stadio dentro, no? Che bello presidente, è più grande, e tra l'altro ha un bosco, è una zona umida, perché lì siamo in una zona di risorgive, per cui l'acqua è sotto, se no in Monaci non ci sarebbero andati. Eh, infatti, perché... L'altra volta avevamo detto che in Monaci sono intelligenti. Infatti, infatti. Va bene, comunque allora facciamo così adesso, andiamo con un po' di musica, e poi dopo torniamo sempre qui a parlare, perché, insomma, le cose da raccontare sullo stadio possibile di Stato San Donato sono davvero, davvero tante. Andiamo avanti con i Comacosa, con i Comacose, scusate, con Malavita. Comacose con Malavita, e, insomma, speriamo invece che sia una bella vita quella che si potrà fare anche nei prossimi anni a San Donato. Sì, sono di parte, sì, ma è ovvio che in questo caso sono di parte, perché quando si vuole costruire su del verde, quando si vuole fare cemento, quando soprattutto si vuole fare uno stadio che c'è già, per me, perché quello è il tema, cioè nel senso a me, adesso non mi spiace per Fabio e per Marco, ma se ci fosse bisogno, direi, oh, raga, pigliatevi sto stadio, ma non ce n'è bisogno, questo è il mio tema, ma lo lascio dire a voi, lo lascio dire a voi, allora parliamo della bonifica, bonifica che quindi è avvenuta in un'area che però, come dicevamo, bisogna anche trattare un po' con i guanti, perché non è proprio, cioè, non è un pezzo di terra buttato così. Non è avvenuta la bonifica, sono iniziati dei lavori di una piccola società che sta facendo un'opera che va benissimo, cioè liberare dai rifiuti un'area, perché stiamo parlando di una porzione molto piccola dell'area San Francesco, ma molto importante, perché è dove c'è la cascina San Francesco, che è appunto una cascina storica delle grange dell'Abbazia. Ecco, l'area, l'area, si è capito di chi è, chi si è comprata, chi è, Marco, guardo te, che so che tu sei un po', si è capito, cioè, chi ha chiamato gli operai per andare a fare le polizie, cioè, quello è il concetto, nel senso, o qualcuno si è svegliato e ha detto, cioè, io mai mattina mi sento buono e ti mando la signora della polizia a casa tua a dire, ma sì, diamo una mano a Marco, gli facciamo, gli riassettiamo il salotto, così, in simpatia. Allora, il veicolo con cui stanno oggi facendo queste operazioni, sia della bonifica, piuttosto che della, a portare avanti la proposta di stadio, è una società acquisita, almeno, dice il Milan, al 90%, che è la società Sport Life City, è nata, piccolissima, senza dipendenti, nata per, ai tempi per proporre una cosa diversa, che era l'arena, un'arena sportiva, che in pratica è un progetto che è morto quando è partita Santa Giulia, che è lì vicino. Noi contestiamo, addirittura abbiamo presentato dei ricorsi, ancora una volta, come cittadini, contestiamo che la procedura sia partita, avvenuta, ancora quando, ad oggi, non abbiamo evidenza dei contratti effettivi e quindi del possesso del bene reale. Le dichiarazioni sui giornali non ci bastano e non dovrebbero bastare soprattutto ad un'amministrazione che ha attivato un accordo di programma con Regione e con tutta una serie di clienti. Marco, mi hai già tirato a fare un paio di volte, quindi devo chiedertelo come va con l'amministrazione, cioè, cosa dice l'amministrazione di San Donato e tutto questo? Allora, come va? noi naturalmente continuiamo e chiediamo continuamente confronto, dialogo, discussione, il punto è che ci dicono che questa discussione e il confronto avverrà sostanzialmente a cose avvenute, cioè dicono prima decidiamo e poi vi attiviamo. Un elemento per far capire, ad agosto 2023, quindi ormai siamo un anno fa, noi abbiamo depositato una richiesta con un PEC ufficiale in comune in cui chiedevamo l'avvio immediato delle procedure di Vias, quindi di valutazione di impatto ambientale ma anche sanitario. Non abbiamo ottenuto risposta. Si è mai parlato di dibattito pubblico in questo caso con voi? Perché a Milano l'abbiamo fatto, è molto divertente. Se ne è parlato nel senso che è stato detto successivamente al no al referendum noi poi attiveremo forme di partecipazione e di confronto fra cui è stato citato anche il dibattito pubblico. Tecnicamente se non sbaglio devono farlo per forza perché su uno stadio devi per forza fare il dibattito pubblico. Però vabbè, poi il problema è come lo fare. Però ecco, il punto è che anche ad esempio quando in Consiglio Comunale hanno discusso dell'avvio dell'accordo di programma noi cittadini alcuni anche consiglieri hanno chiesto almeno di non dare un mandato in bianco al sindaco di andare a questo tavolo ma in qualche modo di relazionare e soprattutto di chiedere tempo per tempo che cosa si deve fare e quali sono le scelte da attuare. credo che sono cose che in altre sicurazioni vengono fatte nel senso se c'è il grosso investitore che vuole dire che fa il cinto commerciale uno dice ok aspetta sentiamo un attimino cosa gli permettiamo di fare o no. Ma rafforzerebbe anche anche il potere stesso del sindaco perché si sente i cittadini al fianco e teniamo anche conto che ad oggi l'unico documento reale che c'è cittadini che molto l'hanno anche votato in molta parte in gran parte anche all'interno del comitato ci sono tantissime persone che dicono che l'hanno sostenuto ma teniamo conto che c'è un altro problema mi è piaciuto questo l'hanno sostenuto mi ha fatto capire Marco che non è che l'ha sostenuto fino al principio diciamo che qualche dubbio no dai Marco scusami 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 no no ma ci sta no volevo dire che anche gli stessi tecnici hanno prodotto l'unico documento ufficiale al momento su quella che è la proposta di stadio piena zeppa di dubbi di temi mancanti di problematicità che i tecnici del comune hanno rilevato ok il traffico la sicurezza e altro per cui procedere senza delle tappe in cui c'è di nuovo un confronto non solo tecnico ma a questo punto anche con i cittadini perché i cittadini bisogna chiedergli ad esempio se sono d'accordo che gli riempieranno tutti i posti auto che hanno nelle strade cittadine bisognerebbe chiederglielo bisognerebbe dirglielo prima di decidere e beh insomma questo è un po' il tema no questa è la partecipazione tanto spesso parliamo di partecipazione però poi non è sempre così semplice nel vostro caso però siete riusciti nel miracolo cioè nel senso che state facendo partecipazione davvero dei cittadini sono belli partecipativi posso dirti che sono stupito anch'io nel senso che siamo in un periodo abbastanza addormentato rispetto alla partecipazione abbiamo visto le elezioni come sono andate le difficoltà e invece innanzitutto devo dire che ci siamo mossi sempre come fratelli noi di Chiaravalle e i nostri amici di San Donato e tant'è che non abbiamo creato un comitato di Chiaravalle ci siamo iscritti quelli che ovviamente erano d'accordo a contrastare lo stadio a quello di San Donato ma poi guarda poco dopo che abbiamo avuto la notizia del referendum abbiamo organizzato come comitato qui dico abbiamo una cena di sostegno per le attività del comitato perché noi oltre alle spese per il referendum abbiamo delle spese rilevanti perché abbiamo fatto un ricorso articolato al TAR prima parlavi di avvocato non credo che ci sono dei costi no ci sono dei costi evidenti perché è un ricorso tra l'altro che prevede una discussione molto articolata e molto lunga perché noi abbiamo fatto moltissime rilevazioni tipo tecnico o giuridico allora ti faccio domanda che farebbe su qualsiasi giornalista qual era il menù della cena no scherzo com'è andata la partecipazione alla cena era un giro pizza avete mai notato c'è il G8 si parla del menù del G8 c'è diciamo così nonostante la pizza fosse buonissima assolutamente buonissima come andate questa cena molto bene molto bene nel senso che in una situazione come questa abbiamo chiesto ai cittadini che volevano sostenere le nostre spese di spendere 50 euro per mangiare una pizza molti sono venuti con la famiglia quindi sono spese di un certo rilievo molti incredibilmente hanno dato molto di più di 50 euro e perché hanno capito e abbiamo messo su 110 persone nel giro di pochi giorni con una scarsa pubblicizzazione perché volevamo innanzitutto accontentare quelli che avevano lavorato fino a quel momento abbiamo rifiutato molte iscrizioni e molti di noi per vari motivi non potevano esserci vuol dire che abbiamo una risposta forte ed è stata una bella serata e quelli che non c'erano hanno pagato comunque la quota senza esserci molte persone hanno pagato senza esserci beh insomma appunto dicevo il miracolo comunque è avvenuto nel senso quello della partecipazione che magari da una parte dovrebbe esserci invece non viene fatta insomma quando le istituzioni parlano di partecipazione poi non chiamano la vera partecipazione alcuni cittadini ce la fanno e quindi davvero io voglio fare i complimenti su questo posso solo ricordare una cosa 3.000 firme della petizione è stato il primo passaggio quindi subito 3.000 firme insomma già questo vi fa capire va bene adesso ci fermiamo un attimino per un po' di musica ma tanto poi torniamo ancora qui a parlare quindi Fabio tieni in caldo quello che vevi da dirmi perché me lo dici fra pochissimo dopo Darjean D'Amico dopo un paio di consigli per gli acquisti poi torniamo qua perché siamo sempre qui alle 8 e 26 minuti qui su Cristal Radio vi ricordo anche il numero di Whatsapp 331-78-535-555 grazie mille a chi ci ha scritto questa mattina continuate a scriverci che siamo qua tutti fino alle 9 a raccontarvi un po' quello che succede a Milano a San Donato in questo caso e insomma con i giornali con i nostri ospiti Fabio Songa e Marco Venichetti adesso è il momento di Darjean D'Amico con Onda Alta alle 8 e 26 Cristal Radio good morning Milano un po' di musica poi tra pochissimo siamo ancora qua siamo ancora qua non cambiate canale siamo qua muffami muffami mi dice sembra si è sempre Tons and I con Dance Monkey alle 8 e 35 ultima parte di trasmissione sempre qui a parlare dello stadio del possibile stadio di San Donato vi metto il possibile davanti grazie prego so che ogni volta che dico stadio di San Donato a San Donato ci viene un colpo quindi insomma Fabio Songa e Marco Venichetti allora dicevamo i prossimi la partecipazione ce l'avete nel senso la gente partecipa e adesso quindi i prossimi passi quali saranno cosa si prospetta all'orizzonte di quel di San Donato all'ombra del campanile di Chiaravalle guarda i prossimi passi per quanto ci riguarda sono l'informazione noi battiamo a tappeto abbiamo prodotto materiali di vario tipo sia cartacei sia filmati e vogliamo perché il problema grosso è l'informazione io sarò ottimista sarò ma credo che se la gente ha le informazioni corrette poi ragiona in maniera corretta io sono convinto che ripeto se porto una persona a vedere di che cosa stiamo parlando vederlo la convinco io ho convinto la stragrande maggioranza dei miei vicini di casa che all'inizio pensavano che potesse esserci qualche vantaggio ad avere uno stadio lì poi quando abbiamo ragionato fatto vedere cartine purtroppo la conoscenza è faticosa è molto più facile fare il leone da tastiera e dire quattro insulti noi cerchiamo di promuovere conoscenza e questo è il primo punto e quindi faremo ancora assemblee iniziative e poi andremo avanti anche dal punto di vista legale perché io ho molta fiducia che il ricorso al TAR possa avere un certo infatti perché adesso con questa cosa del referendum che non è dove avete deciso di fare come funzionerà noi continueremo a chiedere dibattito ok posso chiudere con una battuta poi faccio parlare Marco per me è anche una questione morale lo posso dire con grande una questione di coscienza cioè se io fossi io ho fatto tantissimi anni fa il consigliere di zona Milano ho partecipato a scrivere un programma e ho cercato di fare quello che ho scritto se io fossi un sindaco che si presenta con un punto centrale il no al consumo di suolo e che ha dichiarato in campagna elettorale che sull'area San Francesco avrebbe fatto di tutto per ridimensionare il progetto presente ok perché c'era già un progetto e poi faccio il contrario c'era già un progetto su quell'area no? sì c'era quello che si può definire una proposta che poi è naufragata perché nel momento di fare un palazzetto dello sport di 18.000 persone e già questo ha suscitato ovviamente molte perplessità e molte opposizioni poi il fatto che sia stato costruito che si sta costruendo Santa Giulia ovviamente fa cadere quella prospettiva quindi il sindaco e il sindaco dovrebbe avere più volte l'hai portato non è secondo me un tecnicismo è una questione morale io mi prendo un impegno se non sono in grado di mantenere quell'impegno mi dimetto oppure cambio idea che è legittimo però non ho più il mandato per fare le cose allora mi ripresento agli elettori e dico guardate ho cambiato idea voglio fare lo stadio voglio consumare quel suolo lì se mi votano lo faccio se non mi votano no e questo è il sale della democrazia che purtroppo sta evaporando non tutti non tutti hanno magari manovre alla macron avrebbero definito in questo momento insomma poi bisogna capire Marco posso mi passi allora tornando lì da una parte molte delle energie soprattutto economiche andranno verso il ricorso ok contiamo molto sulla qualità degli avvocati che ci stanno assistendo e delle ragioni anche procedurali per cui ci faremo sentire però il nodo rimane in effetti quello del coinvolgimento dei cittadini ma ne discuteremo perché poi ogni tanto noi facciamo le nostre riunioni di assemblee con ormai siamo quasi a 200 iscritti quindi persone anche che partecipano attivamente al comitato quindi non siamo i due o tre gatti come viene detto troveremo delle forme ulteriori di consultazione di coinvolgimento cioè non ci danno il referendum o rilanceremo nuovamente la petizione ma forse ancora meglio chiederemo in qualche altro modo il sì e il no perché la petizione è per quelli che appoggiano il no e ne sono già convinti noi veramente vogliamo parlare con tutti con i ragazzi io faccio l'allenatore di calcio i ragazzi dicono ah così ho lo stadio vicino magari ci vado e infatti perché questa invece chi è diciamo a favore dello stadio quali sono le motivazioni ti dicono che è vicino e tu gli fai capire che invece ci arrivi meglio a San Siro perché già la metropolitana c'è ma è vicino a me per quello no no dato che io poi mi occupo di mobilità sostenibile e si punta a cercare di arrivare in questi poli non più con l'auto però non lo si può solo dichiarare c'è stato un investimento forte a Milano per arrivare a San Siro con la metropolitana invece abbiamo fatto una stazione che poi devono chiudere quando c'è l'uscita dallo stadio questa è un'altra assurdità appunto ci sono già grossissimi problemi da noi dicono si inventano che forse ci metteranno la fermata dell'alta velocità per far arrivare i tifosi allo stadio in realtà parete si vuol dire costruire no ma non solo ma l'alta velocità che parte da Milano Centrale e si ferma a San Donato già determina il fatto che quello non è più un treno ad alta velocità tanto per farsi capire però queste dichiarazioni non le abbiamo fatte noi le hanno fatte chi propone il progetto quindi noi partiamo da questo punto di vista c'è da parlare con i commercianti c'è qualcuno che dice venderò più panini o più libri perché le persone verranno a San Donato non sarà così perché perché lì costruiranno un ambito in cui tutti andranno a spendere là dentro ma vi dico qua che è uno stadio dove non c'è quasi dentro niente vi dico che però i bar chiudono anche qua cioè nel senso noi siamo qua a San Siro vediamo i bar chiudere comunque nonostante i concerti nonostante Vasco Rossi sia trasferito per un mese praticamente a vivere qui nello stadio però cioè nel senso non è detto perché non è più lo stadio di una volta ecco nel senso appunto è questo è questo il discorso vorrei anche dire che San Donato per tanti anni io sono sandonatese da sempre è stata conosciuta come città ecco del lavoro del terziario città del verde e qui possiamo parlare ma anche città dello sport della benzina verde anche oggi parlano dell'idrogeno però dello sport di base che potevamo fare in tutti i modi questo modello di sport va proprio nella direzione contraria cioè non ci sono più le strutture per far fare sport ai nostri figli e puntiamo tutto invece sul megastadio Marco visto che sei allenatore di calcio te lo chiedo ma è ancora senso parlare di uno stadio per lo sport in questo caso è ancora sport quello o è altro allora io spero che sia ancora sport certo le dinamiche e anche le motivazioni che ti stanno portando a dire che c'è bisogno di questo nuovo stadio non hanno nulla a che fare con lo sport e non hanno nulla a che fare con il coinvolgimento di chi poi quel territorio lo vive e di chi ha bisogno di coinvolgere ad esempio i ragazzi ma non solo oggi è quello che manca certamente forse i migliori potranno avere una struttura vicina per crescere magari diventare le stelle del futuro ma tutti gli altri tutte le migliaia di persone tutte le migliaia di ragazzi che una volta avevano tante opportunità oggi queste non ce le hanno le nostre piscine le nostre piste d'atletica tutte le strutture di tutto quello che si faceva a San Donato è una situazione diciamo di difficoltà non voglio peggiorare e si pensa di risolvere o di rilanciare l'immagine della città e del territorio in questo modo no io credo proprio che non sia questa la ricetta ecco avete in realtà un alleato che non pensavo nel senso che nessuno si lo vedava che è il sindaco di Milano perché ultimamente ha detto che no dai non si può pensare di fare lo stadio lì ho usato anche termini abbastanza accesi dicendo ma no ma non esiste dobbiamo ristrutturare San Siro come se quattro anni di storia precedente si è cancellato in un attimo però vabbè fa niente a Sanà gli vogliamo bene comunque allora guarda io volevo proprio chiudere con una nota di speranza perché da quando ci siamo visti è successa una cosa importantissima cioè che il comune di Milano con il sindaco ha deciso di avviare il percorso perché il territorio di Chiaravalle diventi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO quindi questo è un passaggio per noi fondamentale io personalmente e ho avuto modo di farlo sapere al sindaco indirettamente perché non l'ho mai incontrato nonostante gliel'abbia chiesto più volte credo che il comune di Milano sia in ritardo su questa questione ma la scelta di avviare questo processo è una scelta importante perché guardate non è la salvaguardia solo dell'abbazia di Chiaravalle ma è la salvaguardia di un territorio in una proiezione in cui un territorio storico entra nel futuro ma non devastando la natura ma valorizzandola e integrandola insomma un alleato che magari non ci si aspettava all'inizio però è un po' bene ricordiamo un po' le coordinate però per seguire meglio quello che fate dove possiamo trovarvi se avete anche eventi o altre idee appunto prossime e future immediate no perché stiamo uscendo proprio dall'organizzazione di questa fizzata e serata che abbiamo fatto ma vi comunicheremo e faremo sapere abbiamo il sito che è nostadiosandonato nostadiosdm.it abbiamo una pagina facebook e comunque ci potete trovare facilmente perché siamo sempre presenti anche con banchetti sul territorio bene allora ricordatevi anche che qui c'è sempre posto per voi quindi quando ci saranno gli aggiornamenti scriveteci pure ci ritroviamo qui noi fino al 28 giugno siamo qui in diretta poi semmai ci vediamo a settembre con spero buone notizie dalla vostra zona dalla zona di Carevalle e da San Donato grazie mille a Fabio Song grazie ancora a Marco Menichetti vi saluto a tutto il comitato No Stadio San Donato quindi porta i nostri saluti anche a tutto il comitato va bene sicuramente grazie andiamo avanti con la musica allora grazie ai nostri ospiti continuiamo con la musica poi ci vediamo fa poco qui per i saluti finali e adesso è il momento di Gali con Paprika ed è Gali con Paprika alle 8 e 48 minuti qui su Crystal Radio sempre in diretta Good Morning Milano adesso abbiamo parlato di Stadio San Siro Vasco Rossi stadio possibile San Donato abbiamo parlato tantissimo di Vasco Rossi quindi non possiamo chiudere la puntata di oggi senza ascoltare Vasco Rossi un pezzo che ne parlavamo ieri sera durante il concerto è stato fatto adesso parlavamo di Bollicine è un pezzo che negli ultimi anni ha ripreso quasi vita ha ritrovato una sua nuova gioventù è uno dei brani forse più cantati ormai ai concerti di Vasco devo dire che negli anni passati non lo si filava più di tanto poi invece è ritornato quindi lunga vita Bollicine Vasco Rossi alle 8 e 49 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano continuiamo con la musica 331-78-53-555 il numero di Whatsapp insomma siamo qui a raccontare la Milano e non solo avete visto oggi che siamo mancati a San Donato lo stadio e tutto quello che ruota intorno alla nostra città come ad esempio il concerto di ieri sera di Vasco Rossi allo stadio di San Siro eh sì siamo in ritardo quest'oggi quindi dobbiamo salutarvi dirvi che dopo di noi c'è Ambrogio Curti con Senti Questa e noi torniamo qui domani mattina dalle 7 alle 9 con Good Morning Milano sempre qui in diretta su Crystal Radio buona giornata a tutti noi appunto domani siamo ancora qui stateci bene mi raccomando vivete la giornata nella migliore delle maniere con l'energia magari che vi arriva da Crystal Radio grazie appunto anche ad Ambrogio Curti dopo di noi a tutti gli altri programmi e la programmazione di Crystal Radio la grande musica passa di qua perché Milano si sente qui su Crystal Radio a domani buona giornata ciao ciao a domani